Ci siamo, dovremmo esserci. Ok, perfetto, siamo partiti. Allora siamo qui con Daniele Scalea, direttore del Centro Studi Machiavelli e oggi parleremo di temi che stanno tenendo banco in queste ultime settimane, per la precisione appunto parliamo dei tumulti che stanno avvenendo in America con i Black Lives Matter, la batte degli antiferi, la nota vicenda dell'abbattimento dell'estate, dell'iconoclastia che sta colpendo in modo virulento la società occidentale, non solo negli Stati Uniti. Allora, il Centro Studi Machiavelli è stato appoggiato anche il manifesto Nessuno Tocchi Colombo, proprio per sostenere chiaramente la difesa dei simboli del mondo occidentale e la cosa molto originale, un tema molto originale toccato da Daniele è stato quello della rivoluzione culturale. Allora, cosa intendi Daniele per questa rivoluzione culturale? Cosa sta veramente avvenendo in questi giorni? Prego Daniele. Vedi, quello che sta succedendo è che siamo di fronte non a uno sparuto piccolo gruppo di estremisti come hanno pensato qualcuno vedendo quello che hanno fatto, ma siamo di fronte invece a un movimento di massa, cioè a queste manifestazioni stanno prendendo parte decine di migliaia di persone negli Stati Uniti. Hanno immediatamente avuto dei loro appendici, dei loro corollari in altri paesi, soprattutto in Gran Bretagna, ovviamente c'è una comunanza linguistica, lì arrivano prima, ma per se in Italia abbiamo visto che è accaduto qualcosa. Soprattutto, e questo forse è il dato più significativo, anche più preoccupante, i sondaggi e le indagini sull'opinione pubblica rivelano che negli Stati Uniti, ma anche ad esempio in Italia, dove è stata condotta un'indagine per il programma Quarta Repubblica, dimostrano che c'è all'interno dell'opinione pubblica occidentale una componente forte, se non maggioritaria, diventa maggioritaria soprattutto quando parliamo di giovani, che poggia queste istanze, queste istanze che sono radicali, cioè le istanze non semplicemente chi vuole buttare giù le statue dei generali confederati, qualcuno potrebbe dire in fondo hanno perso la guerra, erano schiavisti e quello va bene, ma abbiamo visto che dalle statue dei confederati si è passate a quelle di Cristoforo Colomba, a quelle di Washington, a quelle di Jefferson e se andrà avanti, come dicono i colori che stanno mandando avanti queste manifestazioni, come dicono e spiegano in maniera molto esplicita, basta leggerne gli articoli, basta leggerne quello che scrivono nei giornali, nei blog, quello che scrivono nei libri, i loro ideologi, questo andrà avanti finché non saranno abbattuti tutti i simboli e tutti gli elementi portanti di quello che attualmente è la società occidentale, con tutta la sua storia, perché poi la storia è anzi l'obiettivo principe, cioè quello che non accettano della società occidentale è poi il retaggio tradizionale che gli arriva, quindi non negli sviluppi più recenti in cui sicuramente tutti abbiamo qualcosa da ridire o qualcosa che criticheremo, ma proprio alla base, cioè la loro tesi di fondo, che ripeto si può leggere, non è complottismo, chiunque può andare può leggere quello che scrivono con molta facilità, la loro tesi di fondo è che l'Occidente, tutte le società occidentali si reggono su questo razzismo sistemico, in sostanza tutti i bianchi, sia coloro che riconoscerebbero di esserlo, a maggior ragione coloro che pensano di non esserlo, sono razzisti, sono razzisti perché? Perché sono privilegiati perché il loro ricchezza, il loro benessere si basa non su ciò che hanno fatto i loro padri costruendo delle società ricche e prospere, inventando la democrazia, inventando dei sistemi sociali ed economici basati sulla libertà, sull'efficienza, sulla produttività e così via, ma sono più ricchi, più prospere, stanno bene, c'è benessere perché hanno sempre sfruttato gli altri, quindi secondo questa tesi che è evidentemente un falso storico, non perché non sia esistito e non esista lo sfruttamento nel mondo, ma perché non c'è questo rapporto unidirezionale per cui i bianchi di colpo hanno iniziato a sfruttare gli altri popoli e quindi sono diventati prosperi e ancora oggi se non succhiassero il sangue degli africani o degli asiatici sarebbero più poveri, il sistema è molto più complesso, quindi se da un lato sicuramente esistono delle iniquità, esistono dei rapporti ineguali e così via, quello che riduce il tutto è il razzismo sistemico che tra l'altro non è un discorso meramente di neocolonialismo, ma il razzismo sistemico sarebbe qualcosa che si opera principalmente verso le persone che stanno nel tuo paese, vale a dire i bianchi sono più ricchi perché sfruttano e marginano gli afroamericani e noi italiani saremo più ricchi perché staremmo sfruttando gli immigrati e li staremmo tenendo comunque in una condizione di minorità. Ora paradossalmente se questo c'ha dei barlumi di verità, si trovano proprio in ciò che loro negano, ovvero è reale che la nostra economia sfrutta gli immigrati, c'è una parte del nostro sistema produttivo che sfrutta gli immigrati perché vengono utilizzati con salari più bassi, con condizioni di lavoro, con minori garanzie, minori diritti rispetto a quelli che gli operai, i lavoratori italiani si erano conquistati e vengono sfruttati da alcuni settori economici per riuscire a guadagnare di più e massimizzare i profitti. Questo che è l'unico lato di verità che potremmo trovare è proprio quello che gli altri negano, cioè secondo loro questo non esiste. Esiste invece il fatto che noi saremmo razzisti e quindi staremmo privando gli altri di possibilità e opportunità e via dicendo, scontrandosi talvolta con degli assurdi perché ad esempio se si vanno a vedere le statistiche sulla ricchezza negli Stati Uniti, in cima non ci sono i bianchi ma ci sono gli asiatico-americani. Quindi chi sarebbe questo razzismo alla fine, cioè gli asiatico-americani sono più ricchi perché i bianchi sfruttano gli afroamericani, questo ha poco senso. Sì, ma infatti questo, scusami, perdonami se è giusto ti interrompo, infatti qui è introdotto il concetto un po' abusato del white privilege che non sarebbe che poi in effetti non risponda la verità dei fatti perché, come hai detto poc'anzi, i ricchi, quelli più ricchi sono gli asiatici, quindi proprio negli Stati Uniti. Quindi, secondo te, dietro a tutto ciò, secondo te questa rivoluzione culturale, questo 68 2.0, vogliamo chiamarlo così, però ben più radicale perché poi in realtà non c'è semplicemente la lotta contro l'autorità, come preconizzato appunto nel 68, ma c'è addirittura proprio un attacco all'identità, cioè all'uomo bianco in quanto bianco. Quindi in questo senso tu vedi in questa seconda rivoluzione, in questa rivoluzione culturale ci vedi un fattore aggiuntivo, c'è qualcosa di più pernicioso rispetto al passato, rispetto alla rivoluzione culturale del 68? Ma in qualche modo la continuazione e in qualche modo anche il superamento. Il 68 ha in fondo i medesimi genitori, cioè quella svolta che ci fu nell'ambito marxista con la scuola di Francoforte e poi successivamente anche l'incontro con il postmodernismo, l'abbandono dell'operaismo perché la classe operaia in sostanza aveva tradito, cioè si era capito che la classe operaia voleva raggiungere lo status eccetto medio e non fare la rivoluzione comunista, così come invece volevano ridottrinare gli ideologi del comunismo e del marxismo, cioè il marxismo della cattedra e ci fu la sostituzione degli operai con altri soggetti rivoluzionari e via via il soggetto rivoluzionario è passato dall'essere lo studente ma soprattutto a essere poi quelli che sono emarginati, quelli che quindi non hanno un effettivo interesse nella società, una visione di proprio ascesa nella società come può avere l'operario, come può avere il lavoratore autoctono, diciamo così. E chi sono questi? Sono da un lato coloro che si differenziano radicalmente per costumi, stile di vita, quindi tutto questo mondo che una volta si chiamava gay, adesso invece il mondo è LGBTQ e dall'altro invece le comunità di immigrati, qualcuno che non condivide, non ha la nostra stessa storia, non ha le nostre stesse tradizioni, non ha i nostri stessi costumi, che le politiche di immigrazione di massa e di multiculturalismo promosse dalla sinistra fanno in modo non vengano integrate, non vengano assimilate, quindi mantengano il più a lungo possibile un'alterità rispetto a quella che è la nostra cultura, la nostra società e questi sono ai loro occhi i nuovi soggetti rivoluzionari, cioè coloro che dopo devono andare ad abbattere il modello tradizionale, lo scopo qual è ovviamente realizzare l'ingegneria sociale che vogliono questi personaggi, quindi costruire la società nuova, costruire l'uomo nuovo su nuove fondamenta che sono le fondamenta, loro dicono, dell'antirazzismo, della giustizia sociale, della libertà, diciamo dei generi fluidi e così via, poi al di là di tutti i bei discorsi contro il razzismo, per la giustizia, per la libertà, poi vediamo da quelle che sono le prime avvisaglie di questa società che non assomiglia, almeno dal mio punto di vista, in nulla a un mondo migliore rispetto a quello che abbiamo adesso. Assolutamente, ha un voto valutato, però la cosa interessante è che io ricordo in un libro di Alain de Benoît, che lui preconizzava già tempo addietro, qualche anno fa, che questa lotta, questa caccia alle streghe del politicamente corretto, poi inevitabilmente sarebbe finito in un cortocircuito in cui, a furia di censure, si sarebbero a un certo punto le varie minoranze si sarebbero censurate tra loro. E la cosa è molto interessante perché, per esempio, vediamo cortocircuiti, per esempio, tra mondo trasgandare e femministe, tra, per esempio, filo immigrazione, filo islamici e femministe, quindi, per esempio, abbiamo avuto in America la Rowling, l'autrice di Harry Potter, che è stata addirittura, che era una madrina, una promotrice del mondo LGBT, nonché pro-immigrazionista, che è stata attaccata perché ha semplicemente, a un certo punto, nel momento in cui si è vista, voleva rimarcare la differenza dell'essere donna rispetto ai transgender, è stato successo il finimondo, quindi è stata addirittura anche minacciata di morte, se non sbaglio, quindi ha subito minacce pesanti, quindi secondo te questo mondo, questa fatua politicamente corretta, che vuole censurare, che vuole privare i spazi di libertà, abbiamo visto anche con il decreto Zanz Calfarotto, che praticamente nel campo del mondo LGBT, vuole praticamente silenziare chiunque, per esempio, voglia semplicemente esprimere che magari la famiglia tradizionale, la famiglia naturale è quella che è sempre esistita, già lì viene visto come praticamente un atto di omofobia, una dichiarazione di omofobia, quindi siamo veramente arrivati all'assunto. Secondo te c'è la possibilità concreta di vedere questo mondo politicamente esplodere, cioè all'interno queste minoranze potranno a un certo punto creare una sorta di cortocircuito, proprio al loro interno si potrebbe creare. Vedi, noi che non ci poniamo a fianco di questo pensiero unico, che siamo un po' gli eterodossi, siamo un po' l'opposizione, poi a prescindere, anche noi siamo variegati, però diciamo che stiamo di fuori di questo mondo, ci siamo sempre cullati in due illusioni che dal mio punto di vista ormai si stanno rivelando fallaci. Un'illusione è stata quella della maggioranza silenziosa, ossia questi dicono eresie, sono dei pazzi, la gente comunque in base al buonsenso se ne accorgerà e anzi più questi si radicalizzano, più la gente per reazione andrà contro di loro. Questo è vero solo nel breve periodo, cioè è vero che quando questi partono con i voli pindarici, avanguardistici, allora gli interviene il buonsenso della gente comune che non li segue. Ma è vero anche che poi, siccome loro questi voli pindarici fanno soprattutto al chiuso delle università, dei circoli letterari, là dove parlano soltanto tra di loro, mentre quello che invece fanno filtrare verso la società sotto forma di indottrinamento, nelle scuole e nelle università, tramite le case editrici, la cultura, le informazioni, cioè tutto quello che loro controllano, è sempre una versione un po' più annacquata. Cioè se tu vai a leggerti quello che scrivono a livello universitario, sai come la gente la penserà fra dieci anni. Perché? Perché loro nel frattempo riescono pian piano a far filtrare, a far attecchire queste nuove idee. Ti faccio un esempio molto semplice. Noi fino a direi dieci, quindici anni fa, anche dieci, qui si parlava, andiamo sul caso della famiglia, visto che lo citavi tu, si parlava se fosse giusto o meno fare le unioni civili omosessuali. E allora c'era un dibattito, c'erano posizioni contraposte tra quelle. Cioè noi a distanza di un decennio siamo arrivati in un momento in cui sostanzialmente il matrimonio gay è quasi indiscutibile, nel senso che in molti paesi c'è già e quelli che non ce l'hanno ce l'avranno a breve, perché ormai non c'è quasi più nessuno che è disposto a fare opposizione su questo. In un momento in cui la pratica dell'utero in affitto è molto diffusa in vari paesi, in Italia non c'è, però chi vuole utilizzarla va all'estero e non viene per questo perseguita in Italia, quindi di fatto c'è già una scappatoia per applicarla. Siamo arrivati all'affermarsi delle teorie di genere, prima si diceva vabbè ma tu non devi guardare, ok sesso sono maschi e femmine, però poi il genere è un'altra cosa, oggi caso Rowling invece non si può nemmeno più dire che esiste il sesso biologico. Quindi il punto è questo, cioè loro sfruttando l'egemonia culturale che hanno, riescono man mano a spostare sempre di più verso la loro direzione quello che è baricentro e l'opinione pubblica. Ciò che 10, 20 o 30 anni fa sembrava impossibile che fosse accettato, perché magari lo pensava il 2% della popolazione, oggi lo pensa il 70-80%, cioè oggi è diventata la nuova posizione centrista e moderata. Quindi noi fra 10 o fra 20 anni qualcosa che adesso la maggior parte della popolazione avversa, probabilmente sarà diventata per i nostri figli che allora saranno cresciuti sotto questo ambiente, sarà invece diventata una cosa ovvia, una cosa scontata e questa è la prima illusione, quella della maggioranza silenziosa. La seconda è quella della loro implosione dall'interno, perché è vero che vediamo i casi come quello delle femministe contro i transgender, questo scontro feroce, vediamo che di volta in volta, tu hai citato prima il nostro blog Centro Studi Machiavelli, invito a guardarlo perché tra l'altro ci sono spesso delle notizie di questo, anche dei due attivisti transgender che vengono linciati immediaticamente da altri attivisti transgender perché non sono abbastanza radicali, cioè c'è questo continuo divorarsi uno e l'altro, ma perché? Perché loro non sono, a differenza del mondo magari della destra, del conservatore eccetera, così che è più lideristico, quindi c'è un capo che è detta la linea e gli altri vi si adattano, loro invece sono policentrici, non c'è un capo, ci sono tanti centri che producono idee, che dialogano e che mandano avanti questo discorso, ma però sono anche molto totalitari nel modo di vedere, quindi se non hanno il capo, se non hanno il centro unico, si sbranano, si azzandano tra di loro, ma poi alla fine più forte e prevale tutti si allineano a quello e quindi non ci sarà una possibilità, quindi io non vedo una possibilità che ci saranno dei pezzi di questa sinistra che vedendo la deriva radicale, tipo quelli che adesso hanno firmato il manifesto per il dibattito aperto, passeranno dall'altra parte, cioè io non ce lo vedo Chomsky, non ci vedo nemmeno la stessa Rowling che è un'ultra femministra e anche lei ha seguito il gender a lungo, che ha costruito tutta la favola di Harry Potter comunque su un messaggio antirazzista e così via che di colpo si sposta e dice io sto con Trump o sto con Salvini, cioè il punto è quello, queste persone avranno solo una scelta, cioè quella di riallinearsi con il consenso che si è creato nel loro ambiente, se non lo faranno, lo farà la gran parte delle persone, quelli rimarranno emarginati ma non conteranno più nulla, quindi non c'è una possibilità dal mio punto di vista che implodano dall'interno, avranno sempre questo clima caotico, ma alla fine andranno avanti, si troverà quello che è più forte, che è detta la linea e tutti seguiranno quella linea. Quasi un caos, quindi quasi un caos ordinato per modo di dire, cioè alla fine si riallineranno. Ecco, adesso vorrei collegarmi al secondo tema, alla seconda domanda. In tutto ciò, cioè nell'egemonia culturale del mondo progressista, del mondo liberal, secondo te c'è una responsabilità della destra? Marcello Veneziani, proprio qualche recentemente, ha scritto un articolo invocando gli stati generali della destra, cioè secondo lui proprio chiaramente erano i giorni di Villa Panfili dove Conte aveva riunito gli stati generali e lui un po' provocatoriamente ha lanciato questo appello, appello poi raccolto anche da Francesco Giubilei, da vari pensatori, vari attivisti del mondo sovranista che effettivamente hanno accolto questa proposta di Veneziani, cioè che cosa manca? La destra, il mondo sovranista in generale, ha delle responsabilità nel non proporre una contronarrativa, una cultura alternativa, nonostante anche le iniziative, voglio dire, soprattutto come il tuo centro studi, ma voglio dire, un po' tutto il mondo del web, dell'informazione alternativa, comunque si è mosso in maniera lodevole, la stessa iniziativa di Francesco Giubilei e più tante altre, voglio dire, comunque rappresentano una controcultura, una maniera di reagire. Però secondo te che cosa manca alla destra politica, cioè che cosa manca a Salvini e alla Meloni? Tu pensi che ci sia un deficit culturale, ci sia un deficit nella comprensione di certi meccanismi, anche di come andare a contrastare questa ondata, questa pulgata progressista che chiaramente vuole silenziare qualsiasi forma di pensiero dissidente? Tu pensi che il mondo sovranista abbia delle responsabilità, cioè che necessiti di questi stati generali, citando i veneziani? Guarda, se tu sei una squadra di calcio e perdi una partita, puoi imputarlo alla sua altura. Se perdi il campionato significa che c'è qualcosa che non va nella tua squadra, cioè che non è colpa del vincitore, ma è colpa tua del vinto. Questa è una cosa con cui bisogna fare pace, cioè bisogna capire che se la sinistra adesso sta così bene, la legge immuni e culturale domina la cultura e sta forgiando, riforgiando in maniera determinante la mentalità delle persone, le sta indottrinando con successo, è perché semplicemente a destra non si è combattuto, cioè non è che si è perso, ma non si è proprio combattuto, perché ci sono stati pochi che hanno mandato avanti iniziative culturali, metapolitiche e così via, in genere agendo in un deserto di totale mancanza di supporto da parte delle istituzioni partitiche o politiche o chiunque altro potesse dare sostegno. Per cui dall'altra parte tu hai non solo, intendo dalla sinistra, non solo dei partiti che hanno organizzato organicamente il mondo culturale per riuscire a mandare avanti la propria visione e di converso anche il mondo culturale che ha riorganizzato questi partiti. Non siamo più ai tempi dell'intellettuale organico del PC, ma siamo comunque in una fase in cui i partiti subiscono anche molto l'influenza di questo dialogo bionivoco col mondo intellettuale. E quando ci sono stati e siedono nelle istituzioni c'è sempre stato un aiuto alla cultura, che è sempre stato un aiuto alla cultura dalla loro parte. Quindi qui senza parlare per infingimenti, per dogmi, modi di fare paludati da liberali e così via, la verità è che quando tu stai al potere devi aiutare quelli della tua parte. Ovviamente entro ciò che è legale, ciò che è giusto e via dicendo, ma così esattamente come gli altri quando sono al potere decidono che la cultura è soltanto la cultura che sta dalla loro parte, allora forse anche quando il mondo di destra sta al potere dovrebbe cercare di essere un po' più sollecita verso una cultura che non è allineata a quel pensiero. Lavorare magari, scusami se ti interrompo, Daniele, anche lavorare negli apparati, cioè il senso che la destra dovrebbe un po' cominciare a penetrare un po' gli stati profondi dello Stato italiano. Quindi non soltanto, proprio perché, e qui raccolgo per esempio un'idea di una riflessione di Adriano Scianca sul premato nazionale, cioè la destra non ha mai avuto chiaro ciò che è la differenza tra politica, tra governo e potere. Cioè ha sempre pensato che fosse la stessa cosa, invece non sono la stessa cosa. E il fatto per esempio che l'egemonia culturale della sinistra, anche in maniera disorganica come tu hai detto, continui a resistere oggi, anzi per certi versi è ancora più aggressiva, come tu hai giustamente richiamato nella tua riflessione seconda sulla rivoluzione culturale. E la destra evidentemente non è riuscita a fare quest'opera di bonifica, vogliamo usare un termine un po' forte, non è riuscita a andare oltre quella che è l'elezione, la campagna elettorale, cioè si è fermata lì, si è fermata sostanzialmente al primo step. Quindi evidentemente dovrebbe andare a penetrare gli stati profondi, l'educazione, la cultura, l'informazione, l'università. Quindi stiamo parlando di questo. Sì, concordo con quello che dice, concordo con la visione di Shankar. Cioè il potere, la sinistra lo studia molto attivamente, anche se poi lo critica perché, diciamo, penso per ipocrisia in fingimento, perché non possono essere tanto stupiti, cercano di dipingere come se il potere non fosse già nelle loro mani. In realtà il potere è nelle loro mani e sono loro quelli esercitano, ma proprio studiandolo in teoria per contrastarlo hanno capito come funzionava. Hanno capito come funzionava e una volta che ce l'hanno in mano, anche se fanno fitta e non avercelo, lo utilizzano molto bene, anche quando non sono al governo. Anche quando non sono al governo continuano a mantenere delle fortissime leve del potere. Hanno queste leve del potere a livello economico, a livello della magistratura e, ne stiamo parlando da tanto, a livello culturale. Poi il legame tra cultura e apparati è anche molto forte, perché gli apparati comunque in qualche modo sono una classe, se non una casta. Cioè sono delle persone che comunque sono state formate nelle tue scuole, nelle tue università, che in genere frequentano determinati ambienti sociali. Ora, se tu hai lasciato che questi apparati, nei loro anni di formazione, venissero costantemente indottrinati dall'altra parte, poi non è che ti può aspettare che nei ministeri, ne trovi molti, o anche uscendo dagli apparati pubblici, che nei certi manageriali delle imprese ne trovi molti. È chiaro che stanno principalmente dall'altra parte. Poi c'è sicuramente anche una debolezza di fondo rispetto a questo, che invece è un punto di forza da un punto di vista morale, cioè il fatto che se tu rappresenti non l'establishment, non l'elite ricca e possidente, ma rappresenti il certo medio, è chiaro che invece quelli che sono più legati all'establishment sociale, come può essere proprio la classe manageriale, tendenzialmente non avranno grande simpatia per te. Quindi quello è un elemento di handicap. Però è anche vero che la sinistra neocomunista, al tempio anche quella vetrocomunista, riusciva assolutamente ad avere dei propri agganci, dei propri sostenitori, pur in un mondo che in teoria per classe sociale non avrebbe dovuto guardare con favore a loro. Quindi le persone decidono unicamente in base all'interesse economico o all'identità di classe, decidono anche in base a un sistema di valori, a quello che ha la loro visione del mondo e tu questa visione del mondo e questo sistema di valori glielo dai facendo cultura, facendo educazione. Quindi o ci si decide a muoversi in questi settori, oppure il destino inesorabile è questo, che di generazione in generazione avremo persone che sempre di più vedono il mondo come lo vedono questi radicali del pensiero unico progressista. Certo. Allora io direi che abbiamo esaurito questi due punti, le prime due domande. e mi avvierei verso la conclusione parlando delle elezioni in America, quindi Trump contro il Deep State, perché da molti ormai c'è la percezione, soprattutto con l'imminente prolungamento dello stato di emergenza del governo Conte, di essere quasi di fronte a uno stato di impotenza, di non poter cambiare le cose, e che soltanto un cambiamento, e questa è anche una mia opinione, potrebbe avvenire soltanto se Trump vincesse le elezioni il prossimo novembre e di conseguenza potrebbe cambiare anche i scenari in Italia, nel nostro paese. Quindi andando a, in un certo senso, tarman forte alle forze sovraniste italiane e facendo anche pressioni sul Quirinale per arrivare a un governo più stabile e più allineato, per modo di dire, ad un'America trampiana. Secondo te, tu in un articolo hai parlato, consideri Trump attualmente in difficoltà. Secondo te, Trump da qui a novembre ha scarse possibilità di essere eletto, oppure per esempio anche sullo scandalo che ha coinvolto Clinton e Macron, e quindi su questo scandalo dell'isola di Epstein, potrebbe coinvolgere molti esponenti del mondo Dem, anche Clinton, potrebbe rovesciare le carte in tavolo, potrebbe addirittura evitare a tal punto il mondo Dem da regalare un secondo mandato a Donald Trump. Tu che cosa ne pensi? Cosa pensi delle prossime elezioni americane? Soprattutto pensi che siano così determinanti per il futuro anche dell'Europa e soprattutto dell'Italia? Allora, partiamo da questo. Io penso che siamo molto importanti, evidentemente perché stiamo parlando della nazione più influente nel mondo, la cui influenza è maggiorata in Europa occidentale, lo sappiamo benissimo. Quindi per l'Italia, che è un paese dell'Europa occidentale, che è un paese della Nato, che è un paese che sicuramente risente moltissimo dell'influenza americana sotto tutti i livelli, è chiaro che quello che non può essere trascurato. Quindi un'elezione di Trump sarebbe indubbiamente, la sua riconferma sarebbe indubbiamente una buona notizia. D'altro canto non dobbiamo nemmeno limitarci a sperare nel salvatore straniero che abbia un qualche ruolo taumaturgico su quella che è la nostra situazione, nel senso che Trump ci è già stato comunque quattro anni a Casa Bianca e non è che questo abbia avuto dei effetti diroppenti qui in Italia, perché poi alla fin fine devi prima di tutto vincere le elezioni in Italia e quindi ci vuole anche che la gente ti voti. Ricordiamoci che nel 2018 l'elezione non l'ha vinta la destra, nemmeno con la sua estensione a centro-destra. Le elezioni alla fin fine l'ha vinta la sinistra, perché se metti PD più 5 Stelle hanno avuto la maggioranza dei voti, quindi quello è stato il risultato, quella è stata la volontà popolare, bisogna rispettarla, però non ci si può esimere dall'essere un po' contragate quando puoi ti accorgere dopo pochi mesi, non ci ricordiamo tutti, ci fu l'esplosione nei sondaggi della Lega, quindi è netto spostarsi verso destra dell'opinione pubblica italiana e qualcuno dice potevate forse pensarci qualche mese prima anziché consegnare il paese nelle mani dei 5 Stelle del PD. Salvini è riuscito comunque, complice anche Renzi che ha fatto mura in alleanza con i 5 Stelle, a farsi quei 14 mesi di governo come junior partner, è riuscito anche a pesare più del dovuto, cioè più di quanto potevano fare i numeri, ma alla fine il risultato era comunque quello, quindi alla fine quello che è decisivo per l'Italia è cosa succederà alle prossime elezioni, chi vincerà e poi soprattutto è decisivo se questi eventuali vincitori alle elezioni o anche se fossero perdenti fossero in grado comunque di incidere a livello culturale per tutti i motivi che stavamo dicendo prima, quindi questo è quello che dobbiamo fare noi, i famosi compiti a casa per usare un termine che adesso va tanto di moda perché del nostro destino decidiamo prima di tutto noi, quindi Trump può aiutare ma non è una cosa risolutiva se qui non cambiano le cose. Entrando adesso in merito delle elezioni, Trump è indubbiamente in difficoltà, ce lo dicono tutti i sondaggi, è vero che i sondaggi vanno presi con le molle perché i sondaggi hanno teso, abbiamo visto nel 2016 a sovrastimare i consensi democratici, noi in Italia sappiamo benissimo questo perché abbiamo tutta l'esperienza con Berlusconi che sotto tantissimi punti di vista tra l'altro assomiglia a Trump, dalla biografia al modo in cui l'hanno trattato in media e così via e ci ricordiamo tutti che i sondaggi lo sottostimavano sempre e poi sotto elezioni faceva il colpo di Reni, però questo non vuol dire che vicesse tutte le elezioni. Idem per Trump, tra l'altro nella politica americana non ti poi permette di perdere elezioni, cioè se le perdi sei fuori, quindi lui ha vinto nel 2016, se perde quest'anno poi è fuori, cioè non ti puoi riciclare in qualche altro modo. I sondaggi tra l'altro danno uno svantaggio molto molto pesante, quindi molti più punti in giù rispetto a quanto fosse in questa fase contro Hillary Clinton. De Ressone è così incredibile perché effettivamente c'è stato qualcosa che nessuno poteva prevedere dieci mesi fa per dire, cioè l'epidemia Covid e quello è stato un disastro perché sicuramente anche Trump ha fatto dei suoi errori come hanno fatto in tantissimi capi di Stato e la gestione dell'epidemia non è stata impeccabile. Il fatto di avere poi i media contro nel contempo degli Stati che hanno molta più spazio di autonomia rispetto alle nostre regioni non ha aiutato perché qui l'abbiamo visto, il governo Conte ha riuscito a sfruttare l'epidemia per raggiungere picchi di consenso, poi li perderà perché non è capace di gestire il post-epidemia della crisi economica, però nel frattempo li ha avuti di consenso anche popolare, invece Trump li ha persi perché lui, diciamo, mentre qui il discorso dei media italiani erano Conte è quello che sta facendo meglio al mondo perché è più bravo e più puro di tutti, se qualcosa non funziona è colpa della Lombardia, del Veneto, del Veneto no perché non si poteva dire, ma è colpa della Lombardia, del Piemonte eccetera, di là il discorso è stato proprio il contrario, cioè gli hanno detto, Cuomo è stato in New York e sta facendo grandissime cose, anche se lui ha fatto la stessa identica cosa che hanno fatto in Lombardia, cioè ha mandato i malati nelle case di riposo ed è stata una strage, quindi solo che in quel caso lì nessuno ne ha parlato per dire che era colpa, sono detto no, il problema è Trump, quindi quello è sicuramente una questione e sappiamo che ancora una volta non per colpa di Trump, per colpa di queste manifestazioni caotte che ci sono state, lì si sta avendo una risorgenza del virus e quindi il problema rischia di perpetuarsi, in più l'elezione americana è spesso dei vinci sul tema economico, l'economia andava benissimo con Trump, finché non è arrivato questo, questo è un disastro, se non hai una ripresa abbastanza rapida, ci sono dei segnali incoraggianti, però bisogna vedere come va nei prossimi mesi, se non hai una ripresa rapida, la gente potrebbe dire vabbè allora io vado sull'altro perché così sto troppo male, poi sappiamo che negli Stati Uniti non ci sono grossi peraccaduti sociali, quindi se sei a canna del gas ti giochi quello che puoi. Ci ho detto, non è finita, nel senso che comunque ci sono ancora dei momenti fondamentali come ad esempio i dibattiti presidenziali, dove Trump sembra dover avere un'ottima margine su Biden, che pur avendo Biden di suo sarebbe anche un bravo oratore, come storia quella di un bravo oratore, però oltre ad essere uno che fa molto facilmente delle gaffe, sta dando dei segni proprio di cedimento senile, quindi finora nei comizi e nei dibattiti precedenti legati ai primari non è che sia andato molto bene, quindi potrebbe essere messo molto in difficoltà nei dibattiti con Trump e siccome poi alla fine il voto decisivo non è chi vota nei democratici, chi vota nei repubblicani, perché ormai la situazione è molto polarizzata nella politica americana e non solo, ma lì soprattutto i democratici votano sempre democratico, i repubblicani votano sempre repubblicano, anche nel 2016 quando Trump era un ciclone e tutti i repubblicani parlavano male, poi alla fine quelli che effettivamente non l'hanno votato sono state una piccolissima parte dell'elettorato, perché la distanza proprio ideologica tra le due fazioni è così ampia che a un repubblicano non gli viene più in mente di votare democratico o viceversa. Quelli che sono decisivi sono a fine gli indipendenti, quindi bisogna vedere chi riuscirà a prendersi il voto di questi. La cosiddetta maggioranza silenziosa, quella che non si espune. E loro saranno quelli decisivi appunto, quindi bisogna vedere. Per adesso i sondaggi dicono che se vincerebbe Biden nel 2016 vinse Trump, vediamo un po' come andrà. La corsa prima di novembre è ancora lunga. Certo, se dovessimo avere grossi problemi legati all'epidemia di Covid, allora lì per Trump sarebbe veramente quasi impossibile. Tu dici che giocherebbe molto a sfavore? Sì, sotto tre punti di vista giocherebbe a sfavore. Il primo è comunque che se tu stai in mezzo a un'epidemia in cui i tuoi avversari possono darti qualche colpa, il problema c'è, soprattutto se si trascina da mesi e sei molto indebolito. Secondo, perché l'economia viene piegata e quindi tu non c'è nemmeno più di poter dire guardate che l'economia va bene. E terzo, perché se c'è l'epidemia sarà difficile bloccare il piano dei democratici per fare un voto massivo via posta, che anche in generale non è sicuro quanto quello che viene fatto di persona. Ma poi negli Stati Uniti, dove ci sono dei controlli molto più blandi su chi vota. Sappiamo che in molti Stati non devi manco presentare il documento di identità, il voto via posta in alcuni luoghi, può addirittura andare l'attivista di partito a raccoglierlo e può consegnarlo lui. Ci sono delle regole che a noi sembrano assurde e che si prestano particolarmente a De Broglie. Quindi se lì alla fine fai che magari il 50%, se non di più, della popolazione vota via posta è finita, perché gli altri che sono più organizzati da questo punto di vista possono sicuramente riuscire a gestire quel voto e portarlo dalla propria parte anche se non fosse per loro favorevole. Quindi quello sicuramente è l'elemento decisivo. Se la Covid viene mantenuta sotto controllo, se non c'è in autunno, allora Trump sicuramente ha le sue chance, perché la corsa non è finita. a dispetto di quello che dicono molti. No, c'è anche perché c'è tempo fino a novembre, quindi c'è ancora un discreto margine per recuperare da parte di Trump. Va bene Daniele, io direi che abbiamo fatto una conversazione piuttosto ampia, abbiamo toccato più temi. Ti ringrazio per essere stato ospite del mio canale per questa bellissima conversazione e magari arrivederci per un altro appuntamento. Sì, grazie a te, è stato un piacere. Grazie Daniele, a presto, ciao. Ciao, ciao.